Salve ragazzi, sono Lady Nightingale e quest'oggi giochiamo a Let's Play The Sims 4, insomma, la famiglia Price Dunque, come volete vedere, ci sono meno persone nella nostra unità familiare oggi Perché è successo, mentre voi non c'eravate ovviamente, è successa una cosa Ovvero che, insomma, Emma Price ha portato a casa questo bambino dall'ospedale Con, insomma, il suo certificato di nascita e tutto E Malcolm ha chiesto il test di paternità che, sorpresa sorpresa, è risultato negativo Perché Isaac in realtà è il figlio di Christopher Collins Per cui, Isaac ed Emma, no Isaac, Malcolm ed Emma hanno divorziato Subito sul momento e Malcolm è andato a vivere, insomma, è scappato a casa dei suoi genitori Mentre, insomma, Alexia, essendo innamorata persa di lui, non voleva perderlo Per cui lo ha seguito di corsa, insomma, cercando di calmarlo, fargli ragionare e tutto Per cui faremo la metà di questa parte, insomma, nella casa Price Mentre l'altra metà, insomma, la passeremo a casa dei genitori di Malcolm Per cui fatemi vedere una cosa Ah, tra l'altro, ragazzi, ci ho pensato su, insomma E mi sono detta Che in pratica, invece Di chiamarlo Isaac, il bambino Vai qui, coccolalo Dai, chi è da mangiare Parlaci, insomma, le solite cose del bambino Insomma, invece di lasciargli il nome Isaac Oppure, se vi piace Isaac, insomma Gli lasciamo il nome Isaac Ma, dato che le ragazze erano molto legate, insomma, alla loro mamma L'hanno recentemente, insomma, rilasciata Nell'oltremondo Per cui E la madre si chiamava, ovviamente, Cristina Ve la faccio vedere subito Voglio solo vedere Una cosa Ok, tra 15 giorni Tu passi d'età Cosa? Beh, questo è strano Perché Chloe è più vecchia di Emma? Oh, wow Ok, è una cosa stranissima Comunque, quando arriverà il compleanno di Chloe Passeremo d'età Se Emma, insomma Che Chloe Perché sono già meglio In ogni caso Questa qui è Cristina Price Oh mio Dio Zaccari È cresciuto Oh mio Dio Wow Wow, wow, wow In ogni caso Questa qui è Cristina Per cui Pensavo che In onore della madre Il bambino poteva chiamarsi Tipo Christian O qualcosa del genere Grazie Alfred Per esserti preso cura Del nostro figlio Ma dato che hai il lavoro No, vabbè Tra due giorni Per cui Va benissimo Come va Però Vai qui e Fai due o tre drink Giusto per Aumentare la tua performance Lavorativa Ok Perfetto Dopodiché Gli faremo studiare Un po' Di libri da cucina In ogni caso Chloe Come va Senti Fai una cosa Dato che Fai un dipinto Stratto Grande Dato che Comunque Dobbiamo pagare Noi Per le bollette Adesso Non possiamo Insomma Fare affidamento Sui possibili Padri Fratelli O cognate Malvagge Dobbiamo Insomma Cominciare anche A guadagnare Per cui Tutti quanti Vanno a lavorare Tu vai a dipingere Perché Mi sembra Più che giusto Oh mio dio Che stai facendo Ah ok Sta adattando al seno Caro In ogni caso Vediamo 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 Christopher che deve fare Vabbè Dopo aver dormito Ovviamente deve giocare a scacchi Che ha il lavoro Che ha il lavoro Tra 13 ore Per cui Christopher Ah Alzati un attimo Ma qui gioca a scacchi Perché no Tanto non hai tantissimo sonno Anche se insomma È abbastanza tardi Perché Ragazzi Ve lo sapete Con il nuovo aggiornamento Insomma Prima di mezzanotte I sim di solito Vanno a dormire Per cui Christopher andrà qui Giocherà a scacchi Poi si farà una doccia E Non lo so Poi vedremo Mentre Alfred Come va? Ok È finito di mixare drink Sapete una cosa? Questo drink Mi piace molto Questo con la ciliegina Insomma Vabbè Alfred in mutande Ovviamente Qual è la novità Voglio dire Tutto a posto Tranquilli proprio Tranquillissimi Come va qui Usa Il bagno Dopodiché C'è una libreria Da qualche parte Apri No Per cui dobbiamo andare Qui E Ordinare Oh mio Dio Può ordinare una bambola voodoo? Ordinala subito Oh mio Dio Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Ordina subito Due bambole voodoo Una per te E una per Chloe Ok Perfetto Dopodiché 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 Andrei qui E Ordina I libri Allora Ok Odio quando fa così Perché Mi si incastra tutto Perdo tempo Ok Non mi servono I libri di abilità Carisma Commedia Ok Cucina 1 Cucina 2 Cucina 3 Perfetto Dopodiché Di queste bambole Perché no In ogni caso Si sarà tipo Una specie di pusher Per Insomma Per Chloe E le spaccerà Tipo Lo sciroppo Per la tosse Perché no Perché stanno piangendo Tutti quanti? Oh mio Dio Ok No No Non va proprio bene Non va proprio bene No Basta 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 Non piangere per Cristina Ok 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 Togliamo queste cose No No È stata una pessima idea Metterle là In primo luogo Ogni caso Va Chloe Ottimo dipinto Rappresenta proprio La tua personalità Proprio al massimo In ogni caso Vai qui E Prendi la medicina Così sei tutta sballata Mentre Alfred 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 Nassi Mangiati qualcosa Dopodiché devi studiare Un po' di cucina Va Chloe Ottimo Ottimo dipinto Ottimo Non Non Venti per favore Oh mio dio Ok Ok Questa è nuova Questa è nuova Per esempio Però intanto Si sente ispirata Ok Si è medicata troppo Facciamo un dipinto Classico Perché no Mentre Alfred Ok Direi che è felice Pure Alfred Per cui Lo manderemo qui A leggere Insomma Un libro Isaac O Christian Sta dormendo Fatemi sapere Tra l'altro Che nome Volete dare Ok Pure Christopher Ha quasi completato Il suo incarico giornaliero Per cui Io direi di passare All'unità familiare Landgrab Ci risentiamo Direttamente lì Dunque ragazzi Vediamo subito Cosa dobbiamo fare Malcolm è triste Perché ha scoperto Che sua moglie In realtà Non lo ama Ma Tanto questo si sapeva In ogni caso Vediamo Vediamo Come stanno Ok È abbastanza felice Per cui Vediamo che abbiamo Abbastanza letti Per tutti Solo che Non voglio far dormire Malcolm e Alexia Nello stesso letto Per cui Manderemo qui Alexia Insieme a Malcolm Ovviamente A consolarsi A vicenda Magari Magari Ci scappa Pure qualche flirt Non lo so Vedremo Ok Lasciamo piangere Per qualche secondo Oppure per sempre Come vuole Insomma Per due giorni Sì sì Perché no Ah per favore Vai qui Alexia Non mangiarti niente Malcolm Perché sei incastrata È incastrata Non in casa Mandiamo Alexia Qui Eh Reallegra La sua giornata Sì perché no Eh Conversazione profonda Perché no Conosci meglio Sì ma tra Oh mio dio Tra l'altro Malcolm Non è Voglio dire Non è neanche più triste Oh mio dio E che cavolo Per curi Eh Buttaci in fear Perché no Oh mio dio Dove sono Dove sono Gli ho persi Aiuto Ok Perfetto Ciao caro Come va Ciao caro Come va? Ah Beh Il momento che magari Che ne so Ah sa Sono tutti abbastanza sicuri di sé Perché sono circondate da cose nuove Perché sono snob O circondate da persone Non lo so In ogni caso Malcolm Dove cazzo Te ne scappi Torna a sederti qui per piacere Eh In ogni caso Il Il mio discorso è che In pratica Non lo so Malcolm Finirà per fidarsi Quasi del tutto Di Alexia Finirà per innamorarsi Insomma Per la prima volta In vita sua Dove è Malcolm Lasciano perdere Andate a mangiare Se volete mangiare In ogni caso Malcolm Finirà per innamorarsi Quasi completamente Insomma Di Alexia Per cui Mangia di cereali Mangia di Yogurt O qualcosa del genere Per cui Niente Finirà per sposarla E Insomma Vivranno per sempre felici E contegni E ovviamente Torneranno nella nostra Casa principale Perché Insomma Alexia è una delle sorelle Price Per cui Insomma Le sorelle Price Devono stare insieme In ogni caso Dal momento che Insomma Con Chloe Non siamo riusciti Ad avere una femminuccia Possiamo Benissimo riprovare Con Alexia Solo che Dato che Dovremmo avere Altri due bambini Uno da Alexia E uno da Chloe Che poi costituiranno La seconda generazione Io direi Di non fare niente Io direi Di Insomma Farle partorie Normalmente Senza usare i trucchetti Per determinare Il sesso del bambino Perché Wow Wow Invece di parlare con Alexia Va a parlare con il padre In ogni caso Stavo dicendo Non useremo nessun trucchetto Per determinare Il sesso del bambino Per cui Come ci viene Ci viene Alexia Vieni qui A flirta Per favore Tanto Sì Sono Entrambi Abbastanza felici Non hanno bisogno Di niente Per cui Possono anche dedicarsi Agli affari Molto Insomma Molto meno Basic Ma che male hai data Fai complimenti Per l'aspetto Questo è il suo futuro Suocero Ovviamente Che non si è presentato Neanche al matrimonio Tra Emma e Malcolm Flirta 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 Ups Ups In ogni caso Magari sono Ci stanno tutti quanti Qui insieme Tra Insomma Alexia E il padre Di Malcolm Che stanno cercando Di consolarlo Per Insomma L'imminente Divorzio Ups 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 No 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 Stai ferma 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 Facciamo Recuperare In estremis Senza che Alexia Combini Altri casini Perché La sua relazione Con Malcolm Voglio dire È già abbastanza Fragile Per cui Oh Tenta di Abbordare Oh mio dio Jeffrey Vai via Vai ad usare Il bagno Che c'è La prostata Vai Per favore Vai Vada 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 Per piacere Vada Di chi è che mette La porta Cioè La porta Che passa Per il bagno Insomma Per uscire Poi sul balcone Sono in The Sims Insomma Malcolm No Malcolm No Malcolm No Dalle il primo bacio Così Sull'onda Insomma Nel momento Perché no Andando Ok 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 Pausa Sì E finalmente Riesco Insomma Ad immortalare Il primo bacio Di qualcuno Non ci sono mai riuscita Non in casa Ok Perfetto Che sta succedendo Ok Già che ci siamo Non sono sicura Ma Non possiamo ancora Fare fichi Fichi Giusto Anche se Insomma Malcolm Ha divorziato Da poco E Abbastanza Fragile Emotivamente Per cui Alex Andrà qui E farà No Non farà niente Invece Perché Malcolm Ha Altri piani Ok Deve andare al lavoro Deve andare al lavoro Per cui non fa niente La mandiamo al lavoro E niente ragazzi Io credo che A questo punto Finirò qui la puntata E' stato un piacere parlarvi Se vi è piaciuto De più Mettete un bel pollicione In su Altrimenti commentate Fatemi sapere Cosa devo Non devo fare Fatemi sapere Se avete qualche idea O suggerimento O altro E niente Se volete seguire Altri miei gameplay Iscrivetevi al canale Ho da poco cominciato Il gameplay Di Get Together Dateci un'occhiata Mi sto divertendo Moltissimo In ogni caso Niente Io sono Lady Nightingale E spero di parlarvi Nel mio prossimo video Ciao ragazzi